Musica Ancora allarme incendi in Sardegna favoriti dalle alte temperature di questi giorni. Grave atto intimidatorio a Magomadas. Sempre più vicino il ritorno alle 8 Asl in Sardegna. Cani avvelenati, adesso è vero e proprio allarme. Benvenuti a questa nuova edizione del Tg Oristanese. Sono 1.379 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale non si registrano nuovi contagi. In totale nell'isola sono stati eseguiti 99.476 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 7, nessuno in terapia intensiva. Mentre 5 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.233 pazienti guariti. Non si placa purtroppo la piaga degli incendi in Sardegna. I dettagli nel servizio di Arianna De Zogos. La piaga degli incendi continua a tenere in allarme l'intero sistema dell'emergenza. Sono ancora troppi i roghi che hanno interessato la Sardegna nel 2020, seppure sotto la media degli ultimi dieci anni. 1.118 fuocchi che hanno coinvolto 2.355 ettari. Numeri che comunque hanno confermato l'operatività e l'efficienza della macchina antincendio regionale. Lo ha affermato l'assessore della difesa dell'ambiente Gianni Lampis. La stagione antincendio è ancora lunga, perciò serve un segnale forte nei confronti di quei delinquenti che mettono a repentaglio l'ambiente e l'ingolumità dei Sardi, ha continuato Lampis. Le istituzioni devono contribuire anche alla battaglia culturale contro la piaga dei fuochi, a cominciare dai luoghi di formazione come la scuola. A breve porteremo all'approvazione della giunta regionale una delibera del valore di 1.300.000 euro che saranno utilizzati per l'inserimento dei lavoratori all'interno del progetto Lavoras nell'ambito dei cantieri forestali. Il Comune di Oristano ha prorogato al 3 agosto i termini per la presentazione delle domande per la concessione di benefici sull'Atari 2020. La proroga è valida per le imprese e professioni che hanno sospeso totalmente l'attività per effetto del Covid-19. L'istanza deve essere presentata al Comune esclusivamente mediante compilazione dell'apposito modulo disponibile sulla home page del sito istituzionale del Comune di Oristano all'indirizzo www.comune.oristano.it. Le domande possono essere presentate sino alle 24 del 3 agosto 2020. Un inquietante episodio è accaduto la scorsa notte a Magomadas, dove la vigna del presidente dell'Associazione Ambiente Planargia, Franco Secchi, è stata distrutta. Secchi è in prima linea da oltre un anno nella protesta contro l'impianto di trattamento dei fanghi da depurazione della GECO, sottoposto a sequestro preventivo da parte della magistratura oristanese. Una settimana fa nella vigna c'erano 270 piante. Un mese fa l'auto di Secchi era stata danneggiata. La GECO SRL prende decisamente le distanze dallo spiacevole fatto. Sentiamo il servizio di Pier Gavino Vaca. La GECO SRL esprime la massima solidarietà a Franco Secchi e condanna a qualsiasi atto intimidatorio. Esordisce così Bonifacio Angius all'indomani dell'attacco alla vigna del presidente del Comitato Ambiente Planargia, Franco Secchi, a Magomadas, dove i gnoti la scorsa notte hanno distrutto 270 piante di uva. Un mese fa l'auto di Secchi era stata danneggiata. Siamo dispiaciuti per quanto accaduto, ha commentato Bonifacio Angius, socio della GECO SRL, e vogliamo esprimere la più sincera solidarietà a Secchi. Ribadiamo al tempo stesso, per l'ennesima volta, la nostra totale estraneità ai fatti, precisando che questo tipo di azioni non ci appartengono, essendo ben distanti dalla nostra cultura d'impresa. Gradiremo quindi restarne fuori. Non è la prima volta che, attraverso opinioni personali e dilazioni espresse sui social e siti web, la GECO si ritrova coinvolta, a suo malgrado, in questo genere di spiacevoli situazioni. Da un anno a questa parte, si legge ancora nella nota, siamo esposti a ogni genere di attacco, sia da parte dei cittadini che dagli organi di stampa, che continuamente associano la nostra azienda a questi scenari sgradevoli. Non è possibile, né corretto, pensare che qualsivoglia evento negativo in Planargia possa essere addossato alla GECO. Siamo stanchi ed amareggiati, conclude Bonifacio Angius, e da oggi prenderemo tutti i provvedimenti legali necessari per salvaguardare il nome della nostra società, che ricordiamo essere composta da persone serie, lavoratrici e soprattutto rispettose del prossimo e del territorio. Ed è sempre più vicino il ritorno alle vecchie otto ASLE. La Commissione Sanità della Regione Sardegna ha infatti deliberato nei giorni scorsi il via libera agli articoli della riforma che le ripristina. Sentiamo il servizio di Paolo De Sogos. E la proposta dell'attuale maggioranza in Consiglio regionale, per ora approvata nell'apposita Commissione alla Sanità, è che viaggia di pari passo con quella che istituisce le otto province e due città metropolitane. Per la maggioranza si tratta di due provvedimenti fondamentali di un processo che sostengono, per quanto riguarda la sanità si tratta di decentrare e riportare sul territorio i servizi di assistenza e cura, compreso l'adempimento e il disbrigo di tutti quelli burocratici. La speranza è che questo percorso virtuale si inneschi per davvero, ponendo fine ad una situazione che, per quanto riguarda prenotazioni e visite, in tutti i presidi sanitari dell'isola è da bollettino di guerra e solo l'infinita pazienza degli utenti in alcune situazioni e evita di trascendere. Sulla sanità sarda, sulla quale ha competenza di legiferare anche la regione sarda, come ha recentemente dichiarato il Presidente della Commissione Consigliare, Domenico Gallus, anche nella sua qualità di medico, si tratta di andare ad una riforma profonda che porti alla semplificazione del sistema e ad una elevazione numerica e della qualità degli organici. Parliamo ancora di sanità. Massimiliano Coppola è il nuovo direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Oristano. Laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Sastri, il dottor Coppola ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Generale nello stesso Ateneo. Nel suo curriculum un'esperienza lavorativa in Francia per poi fare ritorno in Sardegna, prima all'ospedale di Carbonia e poi in quello di Olbia. Dal 2014 ha diretto l'Unità Operativa di Chirurgia Generale del Nosocomio di Lanusei, dove è rimasto fino all'assunzione del nuovo incarico ad Oristano. Ci spostiamo a Cabras, dove ha preso il via il progetto di educazione ambientale denominato Campuseo. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Arianna Desogos. Insegnare a rispettare le regole significa insegnare a stare al mondo. Nei giorni scorsi la giunta comunale di Cabras ha deliberato il patrocinio gratuito del piano denominato Campuseo, progetto di educazione ambientale dell'Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino del Centro Nazionale Ricerche, in cooperazione con l'Associazione di Promozione Sociale Si-Scout e l'area marina proteta del Sinis. L'interessante proposta si svolgerà negli spazi esterni del Centro Esperienze di SEU, concessi in utilizzo per questa finalità del Comune di Cabras, nel periodo compreso fra il 17 e il 22 agosto. Rafforziamo le cooperazioni importanti con il Centro Nazionale Ricerche e con una delle associazioni impegnate nel nostro territorio, ha affermato il primo cittadino cabraresi, Andreabis, patrocinando un'importante iniziativa di educazione ambientale destinata ai più giovani. In linea con le finalità istituzionali dell'area marina protetta, definite dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 luglio 2011, Campuseo ha lo scopo di informare ed educare i ragazzi anche con disabilità cognitivo-relazionale alla conoscenza e alla protezione degli ambienti marini costieri. Ambientato in un'area marina protetta, il piano mirerà in particolare a valorizzarne il ruolo attraverso insegnamenti base di biologia marina e attività sul campo, in terra e in mare, con il supporto dell'Associazione Siscout. Dopo i 4 milioni di euro stanziati per i comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, la Giunta regionale ha stanziato altri 4 milioni di euro di contributi a favore delle amministrazioni comunali per aumento e manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo. Rientrano nel finanziamento anche opere di prevenzione del rischio incendio e interventi di salvaguardia e ripristino del patrimonio forestare danneggiato. San Veromilis, due cani trovati morti, allarme Bocconi-Avelenatti nella borgata di Mandriola. Sentiamo. Spesso sono polpete di carne, altre volte sono fette di prosciutto, lardo arrotolate, uova ripiene o salsicce. E allarme a San Veromilis nella borgata di Mandriola per l'avenenamento di diversi animali domestici. In particolare sono i cani ad essere stati presi di mira. Almeno due sono quelli che a causa di Bocconi-Avelenatti hanno perso la vita. A darne notizia è stata la stessa giunta comunale. Chi ha un amico a quattro zampe e bambini durante le passeggiate deve fare attenzione perché si sono riscontrati diversi casi di avvelenamento tramite Bocconcini. Si legge in una nota del municipio. L'umanità si valuta anche dal rispetto degli animali e siamo addolorati da tanta crudeltà. Nella borgata di Mandriola sono morti due cani. Sono state attivate le indagini, continua la notta, ma invitiamo alla cooperazione per trovare il colpevole. A distanza di anni dalla loro istituzione i cosiddetti centri per l'impiego cercano ancora una loro dimensione operativa. Sentiamo il servizio di Paolo De Zogos. A distanza di anni dalla loro istituzione, inglobando ex co-co-co e raccomandati, fatta eccezione per il personale già stabile presso quelli che allora erano chiamati gli uffici di collocamento, i centri per l'impiego, ovvero i CSL, cercano ancora una loro dimensione operativa e la necessaria autorevolezza per riuscire a sostenere il mondo del lavoro e i rapporti con quello imprenditoriale. Ancora e non senza preoccupazioni, all'assessorato regionale a lavoro queste figure devono essere create. L'ente si è assunta all'onere di oltre 800 assunzioni, operazione sponsorizzata a suo tempo dall'ex senatore del PD Luciano Uras, che al successivo appuntamento elettorale come premio ebbe quello di non essere rieletto a Palazzo Madama. Poi, dopo aver fatto il mantra per Massimo Zedda, presidente candidato della regione, come altri ex, è scomparso dalla scena politica. Sono rimasti i CSL che devono svolgere funzioni di sostegno e orientamento per quanti cercano un lavoro e per le imprese, per le esigenze di natura aziendale. Per l'assessore regionale a lavoro Alessandra Zedda, i centri per l'impiego si devono connotare per la qualificazione e puntualità dei servizi che erogano, contribuendo alla creazione di una nuova cultura delle politiche per l'occupazione, sviluppando il ruolo di facilitatori di relazioni tra mondo del lavoro, istituzioni, imprese e sistemi produttivi. A distanza di anni, come si è detto, si è ancora al punto di partenza. Programmare i servizi alla persona, soprattutto per le fasce più deboli, ascoltando i cittadini e le loro esigenze. Con queste parole il Presidente della Regione, Cristian Solinas, annuncia l'avvio del procedimento per la nomina dei nuovi componenti della consulta regionale per i servizi sociali, sociosanitari e sanitari. In Italia ci sono più pensioni che stipendi. Il Paese ha invertito per la prima volta nella storia il rapporto tra buste paga e assegni pensionistici. Vediamo. E' recente la polemica a livello nazionale sul sorpasso che sarebbe stato effettuato dal numero dei pensionati su quello degli occupati. In pratica un dato che ha generato allarmi più che giustificati, che stimava in quasi 23 milioni i pensionati, mentre i lavoratori attivi risultavano essere 22 milioni e passa. I correttivi degli esperti non si sono fatti a tendere, riportando alle giuste dimensioni il numero dei pensionati del Paese Italia e quello dei lavoratori dipendenti, che nel 2019 erano 23 milioni e mezzo, contro i 16 milioni e 200 mila pensionati. Qualche variazione si è verificata per effetto del Covid, con la forbice tra attivi e pensionati, che si è ristretta con parametro che da 1,44 passa a 1,36, soglia, che in materia previdenziale ancora garantisce l'esistenza. Attenzione comunque a questi componenti della società anche in relazione alle recenti analisi che, secondo la CGA di Mestre, mostrano la terra di Eleonora d'Arborea affollata di pensionati, ben 72 mila a vario titolo per settori di sussidi contro i 55 mila occupati, invertendo quel fenomeno discritto a livello nazionale. Con altre province del profondo sud si è negli ultimi scalini di questa geografia sociale. Nel giardino del Museo Diocesano Arborense si è tenuto il concerto inaugurale della rassegna Musica nelle notti d'estate, con il quarteto dei solisti di Bosa Antica, che ha eseguito musiche di Mozart e Beethoven. Ai sei concerti che si svolgeranno nelle suggestive e apprezzate location del Museo Diocesano Arborense a Oristano e del Museo Perpeto Pau di Nurachi, si aggiungeranno altri appuntamenti nel corso dell'estate. Un cartellone ricco di eventi che spaziano in diversi ambiti musicali, dal soul and blues alla musica tradizionale sarda, passando per gli immancabili concerti di musica classica. I concerti sono inseriti nell'ambito della 46esima stagione concertistica organizzata dall'ente concerti Alba Pani Passino di Oristano, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero per i beni e le attività culturali e della Fondazione di Sardegna. Giovedì 23 luglio alle ore 11 in via Littorio a Cuglieri sarà inaugurata la nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco. La nuova sede coprirà anche i territori di Scano Montiferro, Senariolo, Tresnurages, Magomadas con le borgate marine. Domani alle 19 nel giardino dell'ospitali Santi Antoni di Oristano i bambini oristanesi nati nel 2019 riceveranno in dono il libro A Fior di Pelle di Chiara Carminati e Massimiliano Tappari. La cerimonia sarà il momento conclusivo di un progetto per la promozione alla lettura varato dai comuni di Oristano, Arborea e Zediani. Giovedì 23 alle 19 analoga cerimonia si svolgerà nello spazio GIL di Arborea. Questa era l'ultima notizia del nostro appuntamento con informazioni, vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima edizione del TG Oristanese. Buon proseguimento! Grazie a tutti!